Io... Ma... Giagi mi fa chiedire? Scusa, ma hanno davvero un cappello. Giagi mi fa chiedire? Giagi, dopo ci prova con me. Pendolo? Sì, non ho letto per Gordon e posso architettare anche le peccate. Sì, esatto. Eh, non lo spero. Io l'ho fatto mentre avevo a borre solo sul terreno. No, no, no. Scusa. Stavo persi perché... Eh, no, quello non ve lo capirei. Eh, indagini. No, dai. Vai, tu. No, dai, 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 tu, ti faccio partire. 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 Oh, ti faccio partire. Che squallido. Ma te sei sempre più platina. Che bello. Sempre più agliato. Sempre più super giant. Non ci faccio. Non ci faccio. Non ci faccio. Ma non ci faccio. Non ci faccio. Faccio un'arba. Non ci faccio. un po' di villaggio. Che soffa di rinchiere. Ho appena. Sì, no, ho appena. Non ci fa. Non ho appena fatto per farlo. No, ovviamente più vissile. Però dice. Ah, no, no. Non ci ho provato. Grazie. 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 No, ho fatto il nostro englo sogno di un'azione a queste regole, gioco bollo o qualche cosa? Sarvi organizzato con scusa da parte sul chiave, gioco a qualche cartana. Non so se iniziano a un'altra parte gioca? cambiamo gioco domanda anche se non si può fare anche se non si può fare una domanda se ti allessi bambino si rievoca ma ha chiesto se le gioca le palle ha chiesto se va le palle non ha specificato eeeh franche secondo me non sa che dà un peccato mancano 22 10 minuti di combo io mi sa che scupe va da 3 3,6,4,6,4,9 vediamo se entra poi dopo la scupe te scupe chiule a fare ecco mi sono rai Johan non è la scupe lo so io sono rai per forza pescare il bikini per forza pescare il bikini non c'è anche se ne giochi o le magari cerchi un danger dopo l'altra un danger dopo l'altra come l'amico di Never che ci cerchinava il danger l'amico di Never che ci cerchinava il danger ma lui non era WSR non lo sa grazie Grazie. 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 Grazie a tutti. Così finiamo anche in ritardo per essere ferenti. Stessa taglia, stesso sguardo magnetico. Non è facile. Non è facile. Non è facile. Non è facile. È una fulbetta. Non è facile. Non è facile. Anche tu le rimedi quando ho messo la tua che è il pezzo in questa. E poi la dopo il tempo che tu hai fatto. È fatto 64. Ma cosa ho fatto? E poi Laura... Si guarda i condizioni di edifici. Mi sono andato a cercare il paio. Ho messo le pronte. Ah sì, no, no. Ma in realtà anche se ti scelta la faccia di scelta. Scusa come si conta di comparare la conna di occhi dello sceligiano? Poi hanno i poster alla gala, per le istraizioni, appena vittura. Già con quella parantolo mischio X Ecco Guarda tu dai però Beh non l'ho fatto a posto Poi non è che si è fatto a mancanere la side Poi appena detto a me Ma io Non è legge fatto un maestro 60 Non è legge fatto La famo di un certo dirò lo becco Che cazzo vuol dire Ma no Tanto che per i giocatori Vienta rossa La bionta rossa Io penso che abbia Quanto manca bravo Stavo scherzando Che stavo chiestando Mi sento una necessità Con due danger Dato che l'unica cosa che si può mettere Asce e palla Che è un pernato Asce e palla Asce e palla Poi mettere Tutti sotto Sì 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 Il perniti in mano Ma è così Il problema è che Tutta la sua domanda È un problema è che Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.